La protezione civile stanzia un milione di euro come da preventivo spese dei consulenti della procura di Agrigento. Ad una svolta i lavori al viale della Vittoria, il servizio. Ad Agrigento, al viale della Vittoria, franerà un milione di euro. Tanto occorre spendere per recuperare sicurezza dopo il disastroso crollo dello scorso 5 marzo. Tre palazzi sono in purgatorio, scomberati e in attesa di interventi. 63 famiglie, negozi commerciali e studi professionali sono stati costretti in trasferta. Giro vagano per la città e Penelope tesse la tela aspettando il ritorno. Il magistrato titolare delle indagini, Andrea Maggioni, si è rivolto a due consulenti. Uno è il professore Giuseppe Giambanco, presidente del corso di laurea in architettura ad Agrigento. E l'altro è il geologo Gian Vito Graziano, presidente nazionale dell'Ordine dei Geologi. Giambanco e Graziano hanno subito firmato il preventivo spese. Un milione di euro e la protezione civile ha risposto ok e ha sganciato i soldi. Il tutto è stato sancito da un protocollo e la prossima settimana forse iniziano le opere. Il primo obiettivo è rendere abitabile il palazzo Crea più a rischio perché è travolto dalla costone. Cosicché anche il viale della vittoria sarà restituito alla transito, almeno ad una sola corsia. Al momento l'intera area è sotto sequestro. Su ordine del giudice per le indagini preliminari Stefano Zammuto. I sigilli sono stati apposti dalla polizia municipale e il custode giudiziario è il comandante Cosimo Antonica. Il sostituto Maggioni indaga per disastro colposo e ha iscritto nel registro degli indagati Maria Isabella Sollano e i suoi figli Oreste e Valentina Carmina, che sono i proprietari dei terreni franati, anche se da oltre vent'anni gli stessi terreni sarebbero nella disponibilità del comune di Agrigento. E ciò è una miccia potenzialmente capace di scatenare un contenzioso penale e amministrativo, non facilmente districabile. Forse altri indagati saranno iscritti nel registro di Andrea Maggioni.